E ciao a tutti amici, io sono Axel, oggi ho il gatto, io sono Ansole e sono qui a presentare questo mio nuovo video che ragazzi, nuovo episodio dell'Axel's Rottuglory, se non evo, episodio numero 7 Come 7? Comunque prima di iniziare volevo ricordare di passare da OneFa.com se siete interessati a un po' anche di FIFA e mi raccomando utilizzate il codice Axel come discount code e seconda cosa, volevo ringraziare per tutto il supporto che mi stavate dando, soprattutto in questi giorni Anche ieri che ho caricato il Road to Commander ci sono state persone che hanno lasciato un bel mi piace Adesso non so quanti mi piace siamo arrivati perché infatti ho deciso, come voi ben sapete, in questa settimana di cercare di portare i video possibili per vedere appunto cosa succede nel caso in cui appunto vi porti molti video in un periodo di tempo limitato, se possiamo dire così Quindi mi raccomando fatevi sentire anche in questi video, quindi lasciate un bel mi piace anche adesso Adesso che avete lasciato un bel mi piace direi di poter partire Prima però faccio uscire il mio gatto dalla camera che è un po' infastidito dalla mia voce E adesso chi le abbiamo fatto uscire? Vediamo un attimo dove era arrivata la squadra questa qua Ho disputato una partita contro il computer perché tipo tutti stavano morendo, avevano 60 di forma fisica Come vi detti ora è molto di più, punto in questo episodio a finirla questa squadra Perché infatti ci mancano due partite per vincere la divisione 9 Nel caso in cui noi le vincessimo entrambe diventeremo campioni Quindi la EA ci darà dei crediti che noi andremo a spendere per comprare rispettivamente No, senza rispettivamente, solamente un terzino destro Quindi direi subito di partire, sono un po' non dico preoccupato Però mi sa che oggi oppure nel prossimo episodio arriverà la prima sconfitta Perché sto giocando pochissimo a FIFA Quando gioco, gioco a quello che mi sta prendendo un macello Comunque fa niente Non riusciamo a trovarlo questo sfidante Oh mio Dio, non troviamo nessuno Ragazzi, Dio Cristallino, non lo troviamo Dai, allora Dai, questo c'è Vediamo C'è, l'abbiamo trovato Eccezionale Dai, maglietta agghiaggente come al solito Dai Giochiamo la partita e andiamo a vedere Era un po' di tempo che non vado a portare questa serie E andiamo a vedere La squadra del mio sfidante Che ha un'Ibridaz Una semi-Ibridaz Vabbè, non male, non male Eia, no lagga Johnny È quel Johnny È il divino Johnny, non si sa Non lo sappiamo Cabella Bravissimo Ah Ancora Cabella I numeri Lost numbers Ora abbiamo Shane Long Eia Siamo ancora lì Incredibile Non si molla Con Cabella Che avanza In the middle Madonna Sembrava goal No, 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 no No, infamaccio Godo Godo Merda Dai che questa punizione vale il tutorial Che devo far da due mesi però, Trank Ragazzi, dato che mi sono soglia da poco I miei capelli sono agghiaccianti Mi metterò il cappello Vediamo Cabella Cos'è? Bravissimo Jay E avanza Cabella Cabella Potrei fare Ehi là Che rigoraccio Dai doppie espulsioni Lui sta fermo in mezzo Sono quasi sicuro che stia fermo in mezzo E noi Gliela tiriamo a sinistra Invece sei mosso Ma ci portiamo in vantaggio Shane Long Longone Che vede One Manuel Che di testa vede Cabella Cabella Sottoporta Ci portiamo ancora in vantaggio Due a zero Al ventesettesimo Non si molla No, noi non siamo molli Siamo in una giungla Vede Long Long Bella palla per One Manuel One Manuel Che vede ancora Long Mannage Long Sterzata Sterzata e si riparte Sterzata e si riparte Scritta uno Avance ancora Lagga un po' troppo Lagga un po' troppo Bravo Bravo Eh 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 Oddio Cabella Marcola ma non molla Cabella avanza No Cos'è Perfetto Lol Ci ha regalato palla Ligan mega baggata Francia Ligan Blablabla Però la ritrova La passa Alman Alman Manuelito Che cosa ho fatto Perché La mette Colpo di testa C'è già il gol Al terzo minuto Chiedo Venia Sempre Long Buono Bella sta boccia Bella per sta boccia Per Long Che parte Subito Se ne va Se ne va Scritta uno Longer Due E riscatta tutti Troppo facile Due a zero Al diciannovesimo Oddio mio Bravo 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 E la stazione Mamma mia Alla in tenito Per Long Oddio E c'è il gol 3 a zero Non è l'era di chi abbia segnato Ma va bene Bravo No Che cosa ha sbagliato Non ci credo Guardi Manuel Si vuole rifare 4 a zero Madonna che gol E vabbè E vabbè E vabbè Oddio Dai 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 Questa è il tutorial Dai Passaggio Madonna Che colasso Capella Signori 6 a 1 Arbitro Pogamina Dai Sto incontro Anzi Sto incontro La diciannovesimo Non è morto Un giocatore Vabbè Vabbè Abbiamo pure segnato Un set Va bene E ragazzi Mi è finita E adesso Sapete cosa dobbiamo fare E siamo volati In divisione 8 E andiamo a prenderci lui Malcom Douglas E la nostra squadra E' ufficialmente finita Quindi ragazzi Detto questo Se il video Vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel Viaggio Un bel commento Aggiungete i preferiti Un video Su Facebook O fate quel che ne volete Se non siete ancora Se non siete ancora iscritti Iscrivetevi E detto questo Io vi saluto Vi dico Potendo Fare un prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti